ragazzi no no il titolo è serio il titolo è serissimo io non vedo l'ora di andare fuori giovedì ma io spero che giovedì la roma ne faccia sei vi ricordate i quarti di finale contro il deportivo la corugna ecco questo in confronto non deve essere niente giovedì la roma ce ne deve fare sei giovedì a roma giovedì ci devo rispedire a milano a calci in culo a calci in culo e io ragazzi non vedo l'ora sto contando i giorni perché la roma ci rispedisca a milano con 4 5 6 gol fatti perché è questo che ci meritiamo è questo giochi con lecce metti titolari giochi a sassuolo metti le riserve e come monza come monza uguale cosa fai cosa fai cosa fai prendi due gol nel primo tempo ogni volta che c'è il turnover sono due gol assicurati ragazzi non so più cosa dire adesso no alla luce di tutto ciò alla luce di tutta la merda di tutto ciò che ci avete fatto passare no cosa vi costava esonerare sto pezzo di merda ingrato a novembre cosa a cosa è servito tenerlo e io lo sapevo e io ve l'avevo detto che andava esonerato dopo la partita con l'udinese dopo i cinque gol nel derby andava subito mandato a casa chi prendi chi prendi chi prendi ma veramente qual primo che capita te l'allena sta squadra ragazzi il primo che capita te l'allena sta squadra l'avete voluto tenere ci siamo sorbiti salerno napoli lecce fuori dalla champions league monza sassuolo fuori dalla coppa italia ci siamo sorbiti questo per non parlare della roma che non ti ha fatto giocare e che giovedì prossimo ti rispedirà a casa la roma che giovedì prossimo ti umilierà adesso ditemi voi se a giugno una persona così non se ne deve andare a fanculo se non se ne deve andare a fanculo ragazzi parti cominci solito milan tiro da lì tira da la tira da la tira da la calcio d'angolo due azioni due gol due azioni due gol questi non hanno aspettato un secondo per fare gol fa il 2 a 1 gridiamo a il miracolo bel gol bel gol sto cazzo bel gol sto cazzo bel gol bel gol sto cazzo ha saltato tre soldi non ha saltato cannavaro ha saltato tre soldi ragazzi inizia il secondo tempo e puntualmente prendi pure il gol del 3 a 1 sempre nei primi dieci minuti ovviamente si sta avvicinando il derby ed è normale che tu i primi dieci minuti di partita non giochi è normale è normale ditemi che senso c'ha continuare a vedere le partite ditemi che senso c'ha no io veramente vorrei una risposta da dai miei tifosi vorrei veramente una risposta per capire che senso c'ha guardare sta merda qua ogni singola settimana 1 2 3 gol fissi subiti a partita fissi 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 cinque anni di milan non ce l'hai fatta a dare mezza quadra alla difesa tolti due anni fa difesa che fa quella a tutte le parti tu quella difesa lì quello che non capite è che tu in quella difesa ci puoi mettere chi ti pare puoi riportare in vita beckenbauer ci puoi mettere puyol serchio ramos cannavaro tu chiunque ci metti in quella difesa prendono sistematicamente almeno un gol a partita modulo di gioco che non esiste contropiedi degli avversari uno dietro l'altro ti danno un contropiede non lo sfrutti neanche pagando ma ripeto la mia domanda è cosa spinge una società che si ritiene seria con un futuro dice di averlo ben delineato a tenere una persona così sulla panchina di questa squadra pioli è sempre stato questo pioli andava cambiato dopo lo scudetto no e no e non è stato mai cambiato rotto la sedia non è mai stato cambiato mai sempre al bastone la carota lupo al lupo ne perde fa sei partite da schifo spuntano i nomi ne vince una tutti i zitti tutti i zitti ma vi pare il modo questo o vogliamo cominciare a lavorare in maniera seria perché io mi sono veramente rotto i coglioni rotto i coglioni di ogni volta che vedo una partita che accendo per fare la live vedere quella faccia di merda seduta sulla panchina di questa squadra seduta lì quella faccia di merda ma io gli vorrei tanto chiedere no ce l'avessi davanti ma a te con quale coraggio vai allo stadio c'è quando entri a san siro alzi la testa e vedi 70 mila tifosi nel milano non ti vergogni non ti vergogni nemmeno un po di ciò che ci stai facendo passare era dal 2017 che non si prendevano due gol nei primi dieci minuti solo che nel 2017 l'abbiamo presi dal napoli di sarri ripeto il napoli di sarri che fece 91 punti oggi li hai presi dal sassuolo quegli anni lì in difesa avevi paletta romagnoli vangioni non mi ricordo nemmeno chi da quanto facciamo schifo oggi c'è quella difesa lì prima avevi montella oggi è piori tu con questo mi hai dimostrato che se sulla panchina del milan ci fosse montella adesso avremo parecchi punti in più datemi retta avremmo tanti punti in più e ripeto giovedì spero che la roma ci faccia passare la peggior serata negli ultimi anni ma me lo auguro ragazzi me lo auguro tantissimo no 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 no